Cari amici e cari amiche, ben ritrovate. Siamo arrivati alla quarta domenica di Pasqua, celebriamo ancora il grande mistero della risurrezione del Signore. La quarta domenica ha al suo centro un'immagine, o se vogliamo usare una parola più raffinata, un'icona che è quella del buon pastore risorto. Questa icona ci fa capire che il Signore non è risorto da solo, ma è risorto come un pastore che guida un gregge, incamminato verso il cielo così come è incamminato Lui. Il Signore risorto è colui che va verso il cielo, non da solo, con Lui e dietro a Lui ci sono le pecore. E allora se pensiamo a questa immagine, ricordando l'insieme del Vangelo, se io domando qual è la prima pecora che insieme con Gesù o subito dopo Gesù arriva al cielo, la risposta è molto chiara, credo che anche molti ragazzini potrebbero darla. La prima pecora che segue Gesù risorto che entra in cielo è senz'altro il buon ladrone e a Lui che Gesù ha promesso oggi sarai con me nel paradiso. Il ladrone aveva chiesto ricordati di me quando sarai nel tuo regno e Gesù gli dice ricordati di me, gli dice Gesù oggi stesso sarai con me nel paradiso. Quindi la schiera di pecore che vediamo seguire Gesù non la dobbiamo vedere in termini trionfalistici, è un greggio di santi e di conseguenza non abbiamo bisogno di sentirci esclusi dicendo ma io talvolta sono pecatore, non posso appartenere a questo greggio di Cristo risorto incamminato verso il cielo. Questo greggio ci fa capire invece che verso il cielo possiamo andare tutti ad alcune condizioni. La condizione che dobbiamo evitare è quella di pecore erranti, di pecore che nella vita girano disordinatamente, brucando un po' di qua un po' di là senza sapere dove condursi davvero. Pecore erranti e la Bibbia parla anche di pecore perdute. La pecora che errando è andata così lontano che non trova più la strada di casa e che non sente più la voce del pastore. Qual è la condizione per fare veramente parte di questo greggio del pastore risorto incamminato verso il cielo? Lo dice con chiarezza Gesù in una frase molto semplice. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Se vogliamo allora contare le condizioni sono tre. La prima è ascoltare la voce del Signore. Senza ascoltare la voce di Gesù non si può far parte del greggio di Gesù. Senza ascoltare la voce di Gesù non si può essere incamminati verso il cielo e verso il Padre. La seconda condizione oltre è l'ascolto nostro della voce di Gesù è che lui ci conosca. Abbiamo bisogno di essere conosciuti, di essere amati. La possibilità di essere greggio dipende dal nostro ascoltare la voce del pastore, ma dipende anche dall'affetto del pastore che si prende cura di noi, che vuole veramente essere il nostro pastore. E la terza condizione è quella di seguirlo. Se volete, questa immagine è già dentro all'idea di ascoltare la sua voce, ma quando si insiste le mie pecore mi seguono, Gesù indica una situazione nella quale delle volte ci troviamo. Ci sentiamo di appartenere a Gesù, di essere in relazione con lui, ma qualcosa ci chiama lontano, ci distrae. Per usare la parola di prima, tenta di farci errare lontano. Ecco, per essere discepoli di Gesù bisogna vincere la tentazione di allontanarci da lui. Per esempio, Gesù chiede il perdono. Quando siamo veramente arrabbiati, noi non riusciamo a perdonare. E allora in quei momenti vorremmo allontanarci, vorremmo non seguire Gesù, vorremmo andare per la nostra strada. Un'altra frase molto importante che Gesù dice nel Vangelo di oggi è io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno. Cioè la fortuna delle pecore, la loro salvezza non dipende dall'abilità delle pecore, dalla loro volontà tenace di andare dietro Gesù, ma dipende da un dono che Gesù fa. Gesù è il pastore risorto, quindi nelle vene delle pecore scorre ormai la vita eterna che è la vita del pastore. Spero che non vi appaia un'immagine troppo strana. Se noi stiamo seguendo il pastore che è il pastore risorto, in lui, nelle vene del pastore, scorre non semplicemente la vita terrena, scorre la vita eterna, scorre la vita del cielo. Nella misura in cui la pecora segue questo pastore, allora di fatto dentro a questa pecora scorre qualcosa della vita eterna che c'è nella vita del pastore. Possiamo dirlo anche così. Il rapporto con il pastore non è un rapporto esterno, ma è trapunto, è cucito, per così dire, sul cuore della pecora. La pecora che ascolta, la pecora che segue, non ha solo il suo cuore che batte, ma nel suo cuore è iscritta la vita eterna del pastore risorto. Per questo Gesù ci rassicura, non andranno perdute in eterno. Ascoltiamole queste parole che ci fanno bene. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno perché io sono eterno. Non ci sono dei fallimenti del pastore, quindi non ci saranno neanche dei fallimenti delle pecore. Poi Gesù ripete lo stesso concetto per approfondirlo. Nessuno le strapperà dalla mia mano, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. All'inizio può sembrare una frase complessa, ma poi diventa facilmente molto chiara. L'amore di Gesù per noi è così forte perché implica il rapporto tra Gesù e il Padre. Nel nostro rapporto con il pastore che ci guida, dunque, come abbiamo già accennato, c'è qualcosa di eterno e di divino. Nel nostro seguire Gesù non è semplicemente il risultato della nostra buona volontà, è il risultato di una volontà che ancora più remotamente che da Gesù viene dal Padre. Gesù ci descrive non semplicemente come le sue pecore. È vero che noi siamo le sue pecore, le pecore di Gesù, ma siamo le pecore di Gesù perché siamo pecore che il Padre ha donato a Lui. Allora Gesù vede la nostra possibilità di non fallire in questa vita cristiana proprio perché noi dipendiamo dal Padre e nessuno è più grande del Padre e quindi se il Padre ci ha dato a Gesù, nessuno, proprio nessuno, può strapparci dalla mano di Gesù. Non c'è nessuno che ci può costringere in una schiavitù. Nella visione cristiana va anche notato, meditando a fondo questi aspetti, che l'uomo non viene soltanto divinizzato, ma l'uomo è messo all'interno delle relazioni che costituiscono l'unitrinità di Dio. Provo a spiegarmi un po' meglio. Divinizzazione vuol dire che l'uomo acquista una natura divina. Questo l'abbiamo detto tante volte. È vero nel cristianesimo, forse anche altre religioni parlano di qualcosa di questo tipo, ma di fronte al Vangelo odierno noi possiamo fare un passo avanti. Non siamo semplicemente divinizzati per così dire, ma siamo messi all'interno delle relazioni che vivono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La vita dell'uomo dialoga con Dio. Anzi, le persone divine non dialogano tra di loro se non coinvolgendo l'uomo. Lo ripeto perché è un concetto importante. Il Dio cristiano è un Dio unico, ma è un Dio comunione di Padre e Figlio e Spirito Santo. Se noi ascoltiamo il messaggio di Gesù, il Pastore Risorto, ci accorgiamo allora che il Padre e il Figlio dialogano tra di loro, ma non dialogano se non mettendo al centro del loro rapporto l'uomo. Le pecore per Gesù sono le pecore che il Padre gli ha dato. Il compito di Gesù è custodire le pecore che il Padre gli ha dato. Quindi, se ascoltiamo bene questa frase, ci accorgiamo che noi siamo importantissimi per la Trinità Divina. Il rapporto di Gesù con il Padre dipende da che cosa fa Gesù per noi che siamo le pecore. Per questo mi sono permesso di dire, non siamo solo divinizati, non siamo aperti semplicemente all'azione divina, ma diventiamo l'oggetto dell'amore tra il Padre e il Figlio. Per questo Gesù ha sempre chiamato la vita che ci dona, anche qui sulla terra dove tutto è transitorietà, l'ha chiamata la vita eterna. Il Padre ha dato le pecore al figlio e il figlio le custodisce per il Padre. Il resoconto o il rendiconto che il pastore risorto deve fare delle pecore non è a noi. Ci ama, ma il resoconto vero, il giudizio di cui il figlio ha bisogno viene dal Padre. Il Padre gli domanda che cosa ne hai fatto delle mie pecore? Le hai salvate o le hai sciupate? Le hai lasciate andare erranti o sei riuscito a canalizzare il gregge in modo che sia incamminato verso il cielo. Abbiamo un pastore risorto e perciò noi siamo curati non solo nella nostra vita terrena. Il Signore si prende cura della nostra vita terrena con i Suoi gusti, delle volte non fa quello che noi vorremmo. Ci sembra che per la nostra vita terrena sia importante una certa realtà, raggiungere un certo obiettivo, invece non ci riusciamo. Oppure ci sembra indispensabile avere con noi una certa persona e invece questa persona scompare. Ma se noi ci pensiamo bene, il pastore risorto non si prende cura soltanto della nostra vita terrena, ma si prende cura di noi come risorti. Mi è venuta in mente una cosa questa settimana. Spesso noi diciamo l'uomo ha un piede nella fossa. Non è una frase molto lieta, ma è una frase senz'altro vera per dire sì, l'uomo cammina, ma prima o poi arriva la fossa, la fossa che è la sua tomba. Ecco, io vorrei cambiare la frase e dire sì, l'uomo ha già un piede nella fossa, ma l'uomo ha già un piede nel cielo. Se noi seguiamo Gesù, pastore risorto, con i piedi di Gesù, per così dire, siamo già dentro al cielo. Permettetemi di scherzare un po' con la geografia. Voi che mi ascoltate siete come me, soprattutto degli emiliani. E allora dove siamo? Dov'è l'Emilia? Si trova ai bordi, tra l'Appennino e il Po. Se guardiamo più dall'alto la cartina geografica, noi apparteniamo all'Europa continentale. Se non attraversiamo l'Appennino, siamo come l'Europa della Germania, della Francia, sembriamo un continente. Se attraversiamo l'Appennino invece andiamo sullo stivale. Io vedo lo stivale come un molo, un molo che va verso l'Africa. E allora se ci guardiamo dal cielo siamo tra il Po e l'Appennino. Siamo tra il continente europeo e facciamo da molo per l'Africa, come le immigrazioni fanno vedere in dismisura. Però abbiamo anche una geografia teologica. Nella geografia terrena abbiamo vari punti di vista. Nella geografia teologica siamo iscritti dentro l'amore del padre e del figlio. Quello che abbiamo detto ci fa vedere una geografia diversa. Non camminiamo semplicemente sulla terra, non siamo semplicemente bravi o quasi bravi sulla terra, ma la nostra grandezza è che siamo oggetto del dialogo interno a Dio. Gesù risorto ci dà questa grande speranza, sostiene la certezza di essere amati, di essere incamminati alla vita definitiva. L'uomo di oggi fa molta fatica, riduce la vita, la vita terrena. Di fronte al Vangelo, di fronte al Gesù dobbiamo fare uno sforzo e c'è un'altra vita. C'è una vita eterna. Dobbiamo non perdere di vista i piedi polverosi del nostro pastore risorto. Li chiamo i piedi polverosi perché Gesù è vicino ai poveri e vicino a tante contraddizioni della nostra vita, ma i suoi passi polverosi, non ce lo dimentichiamo, sono rivolti al cielo. Arriveranno al cielo, loro in parte sono già arrivati e arriveremo anche noi. Grazie dell'ascolto e buona meditazione. Grazie.